il cenno la piccola marchesa di renne don dormiva ancora nella sua camera chiusa e profumata nel grande letto soffice e basso nelle lenzuola di leggera batista fine come un berletto carezzevole come un bacio dormiva sola tranquilla del beato e profondo sonno delle divorziate la svegliarono alcune voci che parlavano animatamente nel salottino azzurro lei riconobbe la sua amica prediletta la piccola baronessa de grangerie che discuteva con la cameriera la quale si rifiutava di lasciarla entrare nella stanza della padrona allora la piccola marchesa si alzò tirò i chiavistelli girò la maniglia sollevò la portiera e mostrò la testa solo la testa bionda nascosta da una nuvola di capelli pallidissima nervosa febbrile la piccola baronessa rispose ho bisogno di parlarti mi succede una cosa orribile entra mia cara entrò si abbracciarono e la marchesina tornò a letto mentre la cameriera apriva le finestre dando luce e aria poi quando furono sole la signora di rennedon riprese raccontami dunque la signora de grangerie si mise a piangere versando di quelle graziose chiare lacrime che rendono più seducenti le donne andava balbettando senza asciugarsi gli occhi per non farli diventare rossi a mia cara è abominevole abominevole ciò che mi capita non ho dormito per tutta la notte neanche un minuto intendi neanche un minuto senti senti il mio cuore come batte e prendendo la mano dell'amica se la pose sul petto su quella salda custodia del cuore femminile che spesso basta agli uomini e impedisce loro di cerca l'altro più addentro infatti il suo cuore batteva forte lei continuò mi è successo ieri pomeriggio verso le quattro o le quattro e mezza esattamente non so tu conosci il mio appartamento e sai che il mio salottino quello dove sto sempre da sull'acrisse al primo piano e che io ho la mania di mettermi lì alla finestra per vedere la gente che passa è così allegro quel quartiere della stazione così pieno di movimento e di vita insomma di pace ieri dunque ero seduta su quella seggiola bassa che ho fatto collocare nel vano della finestra la finestra era aperta e non pensavo a niente respiravo l'aria serena ti ricordi che bel tempo faceva ieri a un tratto mi accorgo che anche dall'altra parte della strada c'è una donna alla finestra una donna vestite di rosso io ero vestita color malva sai il mio bell'abito malva non la conoscevo quella donna una nuova inquilina venuta ad abitare lì da un mese e siccome da un mese piove sempre non l'avevo ancora vista ma mi accorsi subito che era una poco di buono da prima fui disgustata e molto urtata che stesse alla finestra come me e poi poco a poco mi divertì ad esaminarla appoggiata sui gomiti al davanzale aspettava al varco gli uomini e da parte loro anche gli uomini la guardavano tutti o quasi tutti si sarebbe detto che nell'avvicinarsi a quella casa fossero messe sull'avviso da qualche cosa che la sentissero a fiuto come i cani la selvaggina alzavano infatti improvvisamente la testa e scambiavano rapidamente uno sguardo con lei uno sguardo da fra massoni quello di lei diceva volete lo sguardo loro rispondeva non ho tempo oppure un'altra volta oppure non ho un soldo oppure vatti a nascondere disgraziata quest'ultima frase erano agli occhi dei padri di famiglia che la dicevano non può immaginare com'era divertente vederla fare i suoi maneggi o per dire meglio il suo mestiere qualche volta chiudeva bruscamente la finestra e vedevo un signore infilarsi nel portone lo aveva preso quello lì come un pescatore alla lenza prende un ghiozzo allora cominciai a guardare l'orologio si rimanevano dai 12 ai 20 minuti mai di più davvero mi appassionava alla fine un simile ragno e poi non era brutta quella ragazza mi chiedevo come fa per farsi capire così bene così presto senza mai un'incertezza fa seguire ai suoi sguardi un cenno con la testa o con la mano e presi il binocolo da teatro per rendermi conto del suo modo di procedere era una cosa semplicissima prima un'occhiata poi un sorriso poi un piccolissimo segno con la testa che voleva dire venite su ma così lieve così vago così discreto che ci voleva proprio un tocco di classe per riuscirci come faceva lei e andai a provarmici davanti allo specchio cara mia lo facevo meglio di lei ma molto meglio ero soddisfattissima e tornai alla finestra non ne acchiappava più uno adesso povera ragazza neanche uno non aveva proprio fortuna che cosa terribile deve essere a pensarci bene guadagnarsi la vita a quel modo terribile qualche volta divertente perché dopo tutto ce n'è di quelli mica male fra gli uomini che si incontrano per strada adesso passavano tutti sul mio marciapiede e neanche uno sul suo il sole aveva girato arrivavano gli uni dietro agli altri giovani vecchi bruni biondi grigi bianchi ritinti ne vedevo di quelli veramente carini mia cara molto meglio di mio marito e del tuo ex marito visto che sei divorziata ora tu non hai che da scegliere mi dicevo se facessi loro un cenno capirebbero anche me una donna onesta ed ecco che mi prende una voglia matta di far loro quel cenno ma una voglia da donna incinta una voglia terribile sai una di quelle voglie alle quali è impossibile resistere ne ho qualche volta di voglio così non è sciocco questo credo che noi altre donne abbiamo veramente un'anima di scimmia del resto me hanno detto me l'ha detto un medico che il cervello della scimmia somiglia moltissimo al nostro bisogna sempre che imitiamo qualcuno imitiamo il marito quando lo amiamo nei primi mesi del matrimonio e poi gli amanti le amiche il confessore se è un bell'uomo assumiamo il loro modo di pensare i loro modi di dire le parole i gesti tutto una cosa stupidissima insomma quando sono tentata di fare una cosa io la faccio sempre dunque mi sono detta vediamo voglio provare con uno solo così per vedere e cosa può capitare nulla scambieremo un sorriso nient'altro e non lo vedrò più e se lo vedessi non mi riconoscerà e se mi riconoscesse negherai che diamine così cominciai a scegliere volevo qualcuno che fosse un tipo ma un tipo ed a un tratto vedo venire un giovanotto biondo un bel ragazzo davvero sai che mi piacciono i biondi lo guardo mi guarda sorrido sorride faccio il senno appena appena risponde sì annuando col capo ed ecco che infila mia cara infila il portone di casa oh che paura pensa avrebbe parlato con i domestici con joseph che è devoto anima e corpo a mio marito certamente joseph avrebbe creduto che conoscessi quel signore da chissà quanto tempo che fare dimmi che fare e avrebbe suonato il campanello da lì a poco un secondo dopo che fare dimmi ho pensato che meglio di tutto fosse correre ad incontrarlo dirgli che si sbagliava supplicarlo d'andarsene avrebbe avuto pietà di una donna di una povera donna così mi precipito verso la porta e la apro proprio mentre lui stava per suonare il campanello balbettai fuori di me andatevene signore andatevene e sbagliate sono una donna onesta una donna sposata è uno sbaglio un terribile sbaglio vi ho scambiato per uno dei nostri amici al quale somigliate molto abbiate pietà di me signore ed ecco che lui si mette a ridere mia cara e risponde buongiorno gattina la conosco sai questa storia sei sposata e sono due luigi invece di uno li avrai va là andiamo mostrami la strada e mi spinge verso l'interno richiude la porta e siccome rimanevo lì tutta sbigottita di fronte a lui mi abbraccia mi cinge la vita e mi fa rientrare nel salotto per la porta rimasta averta e poi si mette a guardare ogni cosa come un perito stimatore le riprende caspita carina la tua casa molto chic devi essere proprio in bolletta in questo momento per far la finestra allora io ricominciai a supplicarlo un signore andatevene andatevene mio marito sta per tornare fra un momento sarà qui è la sua ora vi giuro che vi sbagliate e lui a rispondermi tranquillamente andiamo bella mia basta con queste moine se tuo marito rientra gli darò cinque franchi perché si vada a bere qualche cosa qui di fronte scorgendo sul caminetto la fotografia di raul mi domanda è questo tuo tuo marito sì è lui sembra un gran minchione e questa chi è una delle tue amiche era la tua fotografia mia cara quella in abito da ballo non sapevo più quello che dicevo e belbettai sì è una delle mie amiche molto carina me la farai conoscere ed ecco che la pendola si mette a suonare le cinque e raul rientra tutti i giorni alle cinque e mezza pensa se fosse tornato prima che l'altro se ne fosse andato allora allora ho perduto la testa completamente ho pensato che il meglio era di 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 liberarmi di quell'uomo il più presto il più presto possibile più presto fosse finita capisci ed ecco visto che era necessario mia cara senza quella cosa non se ne sarebbe andato dunque ho chiuso ho chiuso a chiave la porta del salotto ecco la marchesina di rennedon si era messa a ridere a ridere come una pazza con la testa nel guanciale scuotendo tutto il letto quando si fu un po' calmata domandò ed era un bel ragazzo ma sì e ti lamenti mammi ma mamma vedi mia cara il fatto è che ha detto tornerà domani alla stessa ora ed ho una paura tremenda non hai idea di che tipo tenace è e testardo che devo fare dimmi che debbo fare la marchesina si accomodò a sedere sul letto per riflettere poi bruscamente dichiarò fallo arrestare la baronessina stupefatta balbettò come dici sul serio che ti viene che ti viene in mente farlo arrestare con che pretesto semplicissimo ti presenti al commissario gli dici che c'è un tale che ti segue da tre mesi e ieri ha avuto la faccia tosta di presentarsi in casa tua che ti ha minacciata di tornare domani e che domandi la protezione della legge ti darà due agenti che lo arresteranno ma cara se lui raccontasse non gli crederebbero sciocca dal momento che tu avrai saputo darla ad intendere al commissario crederanno a te che sei una donna insospettabile o non oserò mai mia cara dovrai osare o sei perduta pensa che quando lo arresteranno mi insulterà ebbene avrai dei testimoni e lo farai condannare condannare come a pagarti i danni in simili casi mia cara bisogna essere implacabili a proposito di danni c'è una cosa che mi imbarazza terribilmente terribilmente mi ha lasciato due luigi sul marmo del caminetto due luigi sì due luigi soltanto sì poco io mi sarei sentita umiliata ebbene ebbene che cosa devo fare di quel denaro la piccola marchesa esitò qualche secondo poi rispose con tutta serietà mia cara farai farai un regalino a tuo marito mi pare giusto